Il numero unico d'emergenza europeo 112 sarà attivo in provincia di Lecce dal prossimo 14 maggio. In prefettura si è svolta una riunione di carattere tecnico per l'avvio del servizio. Nel corso dell'incontro presieduto dal prefetto di Lecce alla presenza del commissario straordinario della struttura speciale avviamento NUE della regione Puglia e dei rappresentanti delle componenti del comparto sicurezza del territorio provinciale sono stati illustrati gli aspetti tecnici di gestione del servizio. L'112 sostituirà gli attuali numeri 112 per i carabinieri, 113 per la polizia, 115 per i vigili del fuoco, 118 per il soccorso sanitario e 1530 per l'emergenza in mare. Questi numeri al momento resteranno comunque attivi, ma a rispondere sarà la centrale unica di risposta numero unico di emergenza 112. Il nuovo servizio, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, hanno spiegato, garantirà la gratuità della chiamata, l'accessibilità da qualsiasi terminale e per gli utenti disabili, il servizio multilingua e l'utilizzo di tecnologie che consentono una più accurata localizzazione delle chiamate. Sarà inoltre possibile effettuare una chiamata di soccorso anche attraverso un'applicazione per smartphone gratuita, denominata Where Are You, che permetterà una più puntuale localizzazione già predisposta per le chiamate per utenti sordi e per le chiamate mute. Grazie.